Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Elisabetta Gregoraci, la showgirl amatissima dal pubblico italiano, continua il suo percorso di recupero a casa dopo un periodo delicato di ricovero ospedaliero. Lo stress accumulato nelle ultime settimane l'ha costretta a fermarsi, come lei stessa ha messo sui social, a volte il corpo ti chiede di fermarti. Ora, tornata tra le mura domestiche, prosegue le sue cure con una determinazione che non è passata inosservata ai suoi follower. Nella sua «morning routine» condivisa su Instagram, Elisabetta ha mostrato una flebo collegata al suo braccio, commentando con un ironico «Buongiorno!» Questa è la mia morning routine da più di dieci giorni. Si tratta di cure necessarie per rimettersi in forma, probabilmente a base di sali minerali e antibiotici, che l'hanno accompagnata ogni mattina per un periodo non facile. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. Anche oggi, Elisabetta non ha fatto mancare il suo aggiornamento quotidiano, condividendo una nuova storia con la solita flebo e un messaggio carico di speranza, meno due giorni e se Dio vuole ci siamo. La fine del trattamento è ormai vicina, anche se la sugarla ha confessato di sentirsi molto affaticata. Le mie vene urlano vendetta e io sono un po' stanca, ma in fase di ripresa, ha scritto, mostrando una grande forza di volontà. Il suo racconto, pur toccando temi delicati, è un esempio di quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e prendersi cura di sé nei momenti di difficoltà. Ora, tutti i suoi fan attendono con ansia il suo completo recupero. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.